Musica Buon pomeriggio a tutti voi e bentornati a Siamo Noi per una nuova puntata, cara Gabriella. Sapevi che attorno ai 70 anni, tre persone su quattro iniziano a soffrire di disturbi legati alla cataratta. A 80 anni poi, un po' tutti ne presentano i segni che possono progredire, dipende poi dal soggetto, più o meno in maniera rapida. Nel mondo la cataratta senile, pensate un po', provoca oltre il 48% della cecità mondiale, ma in paesi avanzati come il nostro, un intervento chirurgico, che ormai possiamo considerare di routine, offre ai più anziani una soluzione che nello stesso tempo è rapida, ma anche efficace. Sì, caro Massimiliano, se vogliamo dare delle cifre, dei numeri, pensa che in Italia si eseguono circa 650 mila interventi di cataratta all'anno. Bene, noi oggi proveremo a capire qual è il momento giusto per programmare questo tipo di intervento e soprattutto come possiamo prenderci cura dei nostri occhi. Quindi verificheremo, per esempio, anche i rimedi antichi e moderni per vedere quali sono veramente efficaci. E ci porremo, Massimiliano, delle domande. Domande apparentemente molto semplici. No, perché sono semplici. Per esempio, non la faccio a te, le carote fanno davvero bene la vista? Lo scopriremo. E qui c'è chi può rispondere a questa domanda. Vi presento subito i nostri ospiti, a partire da Stefania Santoro, la nostra erborista. Grazie di essere qui. Naturopata. Vogliamo continuare? Eh, ci sarebbe tanto da dire, ma dire a lei oggi. Va bene. Rosa Francesca Caputo, apprezzionata, che è qui rappresentanza di tutti gli italiani che già si sono sottoposti a questo tipo di intervento, ovvero la cataratta. Grazie. Ben tornata. Mi raccomando oggi, eh? No, sì. Fino al telegiornale. E poteva mancare l'oculista? Direi di no. Grazie al dottor Maurizio Maurizio Enrici. Grazie di essere qui con noi. Grazie. Grazie. Volevo far scemare l'applauso. Grazie al professor Giorgio Calabrese, nutrizionista. Io subito gliela faccio la prima domanda. Professore, risposta secca. Le carote fanno bene alla vista? Fanno molto bene, fanno molto bene perché qualcuno dice ha la vitamina A, no? Il mondo vegetale non ha la vitamina A, la provitamina o betacarotene o alfacarotene. Poi deve avere un fegato che funziona e se il fegato funziona, quella provitamina diventa vitamina che aiuta molto la nostra vista. E quindi è una cosa che abbiamo portato. No, non ci hanno ingrannato. Raramente lo fanno, raramente lo fanno, però poi scopriremo molto altro con il professor Calabrese sul mondo vegetale della frutta color arancione. Però Stefania, nel nostro consueto stile, più tardi entriamo nei dettagli, però ci piace mettere dei paletti. E capire alcune cose, vengono da te a chiederti per esempio come dare sollievo, qualche rimedio per dare sollievo alla stanchezza, all'occhio un po' affaticato? Come no, soprattutto appunto per tonificare l'occhio, che comunque si può stancare anche a causa di agenti atmosferici, quindi anche una giornata di vento oppure una giornata in cui si è andato tanto il motorino, quindi l'inquinamento, lo smog può avere comunque un impatto sui nostri occhi. Quindi si rivolgono a te e si rivolgono a te a questo punto con la certezza, che è più che una speranza e qui anche da te una risposta secca, che la natura ci può aiutare anche in questo. Ci può aiutare, è molto. E lo scopriremo Gabriella, assolutamente lo scopriremo, però intanto voglio sapere dal nostro oculista se noi ci prendiamo abbastanza cura dei nostri occhi o se invece potremmo fare di più. Sicuramente stiamo andando verso una maggior cura dei nostri occhi, questo lo vediamo già dai bambini che cominciano a fare delle visite periodiche e quindi è un'educazione al controllo periodico. Sicuramente andando avanti con l'età ancora abbiamo dei retaggi legati al passato dove i pazienti tendono a farsi vedere con un po' più di difficoltà, spesso arrivano a controlli con già delle situazioni molto avanzate. Un po' avanzate. Sì, quindi sicuramente dei controlli periodici potrebbero sicuramente dare una mano maggiore. Poi vedremo la periodicità che ci verrà consigliata. La prevenzione è sempre importante in tutti i campi. Già stai per chiedere a Simone, io lo so. No, Simone guardalo là. Che porta gli occhiali. Che porta gli occhiali, sicura abbastanza. Simone. Allora, prima di tutto se avete bisogno di qualche chiarimento segnalateci le vostre domande, diteci se vi siete sottoposti all'intervento di Cataratta o se siete tra chi controlla la vista con regolarità. Su, fatevi sentire, vi lascio subito i nostri contatti. Partiamo dalla mail, siamo noi chioccio alla tv2000.it, il nostro numero whatsapp 348 3070 345, scriveteci o lasciateci un breve vocale, se no chiamateci e lasciate un messaggio in segreteria 822 88 96 o venite a trovarci sui nostri social, vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora, il professore Ricci ci ha un po' rassicurato, cominciamo a essere più consapevoli, però noi abbiamo voluto comunque tastare il polso degli italiani e così abbiamo sguinzagliato la nostra Marta Manzo che ha posto delle domande interessanti. Vediamo. Lei si controlla la vista? Certo. Ogni tanto sì, per gli occhiali. Quante volte? Eh spesso, adesso è un periodo che ho una maculopatia e la sto controllando spesso, alle circa tre volte. Avete fatto i controlli da poco? Sì, sì, abbiamo fatto da poco i controlli, tutto è posto. Ogni anno? Ogni anno io faccio, sì. Ma ci voglio di andare, comunque ci vedo bene. Ha avuto mai problemi di cataratta? No, 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 mai, 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 mai. Ho 82 anni, non ho problemi di questo genere. Ce l'ho anche una cataratta che sta scendendo ma ancora non è matura. Quindi non è da operare? No. Ho fatto la cataratta un anno fa, dovrò farlo anche all'altro occhio, per cui cercherò di trovare lo stesso professore. Come se ne è accorto? Me ne sono accorto che mi diminuiva la vista, nel lavoro che facevo io mi è toccato operare. C'era un po' di appannamento e allora non vedevo più bene. A quel punto mi sono deciso. Ha intenzione eventualmente di operarla? Certo. Quando il mio medico mi dirà sì, è pronta per essere operata, la farò. Si è fidato del suo medico quando l'hanno operata? Mi sono fidato sì, è stato fin troppo blao. Uno si deve fidare, anche perché sono stata un po' sforzionata con i medici in altre cose. Adesso come ci vede? Ci vedo bene, con gli occhiali, questi e gli occhiali sono per la macchina, perché da vicino ci vedo bene. Mio marito si è fatto, tutto a posto, ci vede meglio di prima. Mi ha detto, se me li faccio io così ti vedo più o meno e più bello. Chissà se fa anche questo miracolo, l'operazione di cataratta, chissà. Professore, allora l'alimentazione è importante per il benessere del nostro organismo, quanto è importante? Fondamentale, non soltanto per la vista, ma per tutti i sensi che noi abbiamo. Però la vista ha una caratteristica, perché questo occhio ha delle terminazioni nervose, una vascolarizzazione, delle strutture che poi il collega oftalmologo sottolinea. E noi dobbiamo pensare sempre che in una casa la stanza da bagno ha dei mobili diversi dalla stanza da letto e non possiamo mettere gli stessi mobili in queste cose. Quindi noi abbiamo una regola. Diamo più pesce al nostro occhio, diamo colore alla nostra alimentazione, diamo la capacità al nostro organismo di avere alcuni minerali che spesso noi non conosciamo o non teniamo in giusta considerazione come lo zinco e questo ci porta ad avere nella frequenza della giusta alimentazione una prevenzione di quella che poi, parlando della cataratta, altro non è che la opacizzazione del cristallino. È come buttare del latte su un vetro di una finestra, vedi la luce ma non capisci cosa c'è dietro. Io spero che voi abbiate cominciato a prendere appunti, abbiamo detto zinco, poi abbiamo visto quali alimenti non dovrebbero mancare, però poi insomma cominciamo a arricchire questi consigli. C'è anche un altro aspetto, pensavo professor Calabrese, che ci sono delle patologie che sbagliando alimentazione rischiano di peggiorare, patologie che poi impattano anche la vista. Ad esempio il diabete è una di quelle condizioni di cui noi non abbiamo più tanta paura, perché? Perché l'ottima classe medica italiana e non solo riesce a controllare con dei farmaci e con un regime dietetico quella patologia metabolica, troppo zucchero che gira nel sangue e questo comporta appannamento dei vari organi. Noi però abbiamo anche, faccio un esempio, io vedo che ci siamo americanizzati nel gioco dell'alimentazione delle diete iperproteiche, troppe proteine, eccessi di proteine che si portano dietro anche molti grassi, comportano una opacizzazione sempre del cristallino, ma anche dei danni all'uvea, dei danni a tutta la struttura dell'occhio e quindi noi dobbiamo stare molto attenti al rapporto con l'alimentazione e con lo stile di vita, ma ricordiamoci sempre perché delle patologie, la pressione arteriosa molto alta, la frequenza arittimica o tachicardica del nostro cuore possono portare degli scompensi non diretti ma di rimbalzo anche ai nostri occhi. Non è caravista. Solo una cosa, una seconda, dunque troppe proteine, troppo poche? Troppi poche, troppo poca fibra, troppo poca verdura, perché noi abbiamo bisogno di frutta e verdura, legumi e cereali perché hanno la fibra. La fibra antagonizza nell'intestino l'assorbimento dell'eccesso del grasso e degli zuccheri e quindi noi mettiamo benzina per dieci ma ne utilizziamo solo due. Dottore Ricci, hai sentito le risposte delle nostre persone intervistate da Marta Manzo? Che ne pensa? Un signore ha fatto proprio un tipico esempio del paziente che si presenta a studio. Praticamente dice la cataratta ancora non mi è scesa e non è ancora matura. In realtà queste sono due credenze popolari, nel senso la cataratta proprio significa cascata, perché prima si pensava che era una cascata di una goccia di humor che passava dai nervi ottici e arrivava fino al cristallino. Quindi la cataratta non scende? No, chiaramente non scende, ma come ha detto il professore un invecchiamento del tessuto del cristallino, che è un tessuto trasparente che invece diventa opaco nel tempo. E la seconda era la cataratta ancora non è matura, anche questo in realtà è legato a una vecchia concezione della chirurgia della cataratta, dove prima doveva essere ipermatura la cataratta, quindi doveva essere una cataratta molto dura per poterla asportare dall'occhio. Oggi in realtà con le tecniche moderne più la cataratta è morbida e meno è invasivo l'intervento. Quindi è più semplice diciamo. Assolutamente, è più semplice ma è anche meno invasivo per l'occhio, perché si utilizzano gli ultrasuoni per rompere questa cataratta, più è morbida e meno ultrasuoni si usano e quindi meno è traumatico per l'occhio. Quindi anche il recupero è molto più rapido assolutamente. La vista colpisce ovviamente in particolare al modo degli anziani, per ovvi motivi. A che età si comincia a perdere colpi? Allora diciamo che in realtà è un processo graduale che comincia con il tempo. Molto spesso, come un'altra signora ha detto, comincia a vedere un po' opaco, nel senso che inizia inizialmente con un'alterazione dei riflessi, sempre nella guida la sera, quando le macchine vengono contro ci cominciano a vedere dei bagliori, degli abbagliamenti, nei cambi di luce, oppure quando si entra e si esce dalle gallerie. E pian pianino questo difetto comincia a progredire nel tempo, fino a che non determina chiaramente una riduzione della vista. E quello secondo me è il momento cardine per come fare. Quello è un campanello d'allarme. Io riflettevo su quello che ha detto quella splendida signora che ha detto, ho 82 anni, mai avuto problemi di cataratta, è un'eccezione quella signora o magari possiamo sperare che con una buona prevenzione, magari dei buoni geni alle spalle, ce la possiamo fare, si può andare avanti senza troppi problemi? Ma diciamo che difficilmente a 82 anni non si ha la cataratta, è tutto possibile chiaramente. Molto spesso i pazienti vengono dicendo io ci vedo molto bene, poi in realtà noti che il difetto di vista è presente, la vista non è ottima, però la vista è un bene soggettivo. Quindi molte persone si accontentano di quello che hanno e ritengono di vedere bene, quindi è più quello che il fatto di vedere veramente bene. Un'altra curiosità che ho vedendo le immagini che stanno proponendo dalla regia è se, sono degli occhi con dei colori splendidi, se dall'iride davvero noi possiamo intuire uno stato di salute non buono, insomma capire abbastanza? Ma difficilmente, nel senso ci sono delle patologie che riguardano l'iride, però alla parte posteriore dell'occhio, quindi la retina e il cristallino sono a sé stanti. L'occhio è diviso in diversi segmenti e ognuno fa parte a sé. Ma sullo stato generale di salute della persona l'iride non ci aiuta a capire? Non particolarmente. Quindi abbiamo sfatato di questo. Non è via nostro. L'iridologia non è scienza. Ecco, questo giustamente ha messo un puntino sulla I. L'iridologia non è scienza. E' tendenza. E' tendenza. La signora Rosa, lo abbiamo detto in apertura, qui rappresenta tutti gli italiani operati di cataratta. Una responsabilità, signora Rosa, mi hanno dato enorme. Ma lei quando ha capito di non vederci più come prima? Io ho capito a sei anni. No, la mia maestra l'ha capita a sei anni. No, vabbè, io non è che volevo iniziare dai sei anni. No, 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 a sei anni. Volevo partire dalla cataratta. L'ha capito la mia maestra, che non ci vedevo. Che non vedevo la lavagna. No, perché sono preoccupato se ne parte dai sei anni. Andiamo un po' più avanti. Alla cataratta. Sei anni, non avevo, non vedevo la lavagna e la maestra con mia mamma mi hanno portato all'oculista e da allora continuo a 45 anni per un trauma, un forte trauma di una morte di una persona a me molto cara, molto cara. Dopo due giorni del trauma, con l'occhio destro, che il mio occhio destro è stato sempre pigro rispetto al sinistro, infatti io non do due gemelle, io ho due figlie unici. Non vedevo più bene, mi dava fastidio, c'era qualcosa. Sono andata e c'era la cataratta. Secondo me sì. Che cosa? No, pensavo di andare tra il pubblico. L'ascoltiamo in religioso silenzio. Proseguate. È il vostro buon cuore. Non vedevo più, giro oculisti su oculisti, chi mi diceva niente, chi mi diceva così, chi mi diceva colanghe, perché Stoccio collabora ma non vede. Ho trovato una brava dottoressa del policlinico e mi ha operato di cataratta. A 45 anni? No, sono stata a 49. Perché nel frattempo a 49 anni sono stata... Molto giovane. Eh sì. Da trauma, vengono da trauma le cataratta. Se non che dopo qualche nannetto non rivedevo bene la secondaria. Che significa, scusi, la secondaria? Chiariamo tutto. Dottore, cosa è la secondaria? Praticamente la cataratta secondaria è il cristallino, che è un organo che dentro l'occhio viene asportato. Chiaramente nell'asportarlo rimane il sacco in cui questo è contenuto. Il cristallino viene messo all'interno di questo sacco, dove la parte anteriore viene tagliata per poter asportare il cristallino. Ma la porzione posteriore è quella con cui uno è nato. Con il tempo, solitamente dopo un paio d'anni orientativamente, comincia a esserci un'opagitazione anche della capsula posteriore. Quindi si interviene sullo sessozio? Assolutamente no. Si interviene con un laser, con un YAG laser, che semplicemente è un intervento non cruento. Il paziente si siede davanti a questa lampada che gli mette luce e con un laser fa diversi spot, senza l'altro bip bip bip. Il paziente non sente rispaccarsi un velo, non è stato doloroso per niente, è come se uno facesse la visita oculistica, soltanto che con questa cosa senti come se si rompe un vetro e ti portano via tutto. Quando sono uscita, chiaramente, vedevo, dico, meno male, l'occhio destro si è sistemato finalmente. A 52 anni mi scende la cataratta all'occhio sinistro, che era l'occhio primario, quello che vede. Ma non scende la cataratta? L'ha appena detto, l'ha appena detto, Rosa, si è distratta. C'è l'opacizzazione del cristallino, me lo passate questo termine così, non lo fa volare, così quelli che mi ascoltano mi capiscono. Però dobbiamo cominciare a passare l'informazione corretta. Chiedo scusa della gaffa che ho fatto. Quindi secondo occhio, a quel punto, ma questo non accade. A secondo occhio si è opacizzata la cataratta a sinistra. E siamo solo a 52 anni. E quindi ha fatto l'intervento. No, 14 anni dopo. No, io l'interrompo. Infatti, come diceva il professore, quando sono andata a visita, siccome non la volevo fare la cataratta, l'oculista mi ha detto, guarda, se tu continui così, perdi l'occhio, perché più si solidifica, come diceva lei prima, che più il cristallino si solidifica, è peggio, è peggio, è. Allora Rosa, io la interrompo qui, al secondo occhio, perché due punti che vorrei evidenziare e magari anche spiegare meglio, che ha toccato la nostra Rosa. Il primo ha detto, professore, è vero che dei traumi, ma lei alludeva dei traumi psicologici, possono provocare una situazione di questo tipo. Seconda fatto, cioè è abbastanza normale che dopo l'intervento ad un occhio si proceda a una certa distanza dall'altro? Non conviene quasi mai farle insieme, non si fa insieme? No, insieme no. Allora diciamo che i traumi emotivi difficilmente possono dare una cataratta, possono dare un affaticamento visivo sicuramente, i traumi invece reali possono dare una cataratta di tipo traumatico. Solitamente gli occhi quando si opera uno si tende ad operare anche l'altro, a distanza di un mese circa. Quindi è una distanza molto ravvicinata? Molto ravvicinata, perché chiaramente anche se un occhio ha più cataratta male rispetto a un altro, la visione dopo sarà differente nei due occhi, perché chiaramente un cristallino artificiale ha una determinata gamma di colori, mentre invece un cristallino naturale ha altri colori, quindi ci troviamo ad avere un occhio con una colorazione e un occhio con un'altra colorazione percepita dal paziente e questo può dar fastidio. Allora noi ci interrompiamo un attimo Gabriella, però torniamo tra pochissimo per avere tutte le informazioni su cataratta, interventi migliorativi per la vista, ma anche per conoscere qualche rimedio naturale, perché è sempre utile per allevare qualche stanchezza, un po' di stanchezza qualche lieve disturbo agli occhi e anche per sapere cosa portare a tavola Gabriella. Il professor Calabrese è qui, quindi ci vediamo tra poco. Dunque Gabriella stiamo parlando degli occhi, dei nostri occhi e delle cure che dovremmo prestare ai nostri occhi per farli stare bene. Allora parlavamo dell'intervento di cataratta, si può definire di routine? Perché? Si, si può definire di routine perché ormai è un intervento minimamente invasivo, io ricordo sempre i pazienti però che è sempre un intervento chirurgico, quindi va sempre dato il giusto peso a un intervento chirurgico, quindi sicuramente oggi il paziente viene ormai al mattino e teoricamente dopo un paio d'ore se ne torna a casa, non è più come… Quindi degli ospiti? Degli ospiti assolutamente. Che tipo di anestesia? Allora l'anestesia ormai è un'anestesia locale, diciamo si può utilizzare o la semplice goccia nell'occhio come anestetico o eventualmente una puntura per i bulbari, quindi per bloccare il muscolo, diciamo che ormai principalmente si utilizza semplicemente la goccia topica, l'anestesia locale, il paziente ripeto dopo due ore torna a casa, nel giro giorno di una settimana ha un ritorno alla vista normale, anche qui è molto legato al tipo di cataratta che ovviamente il paziente ha. Ci sono dei rischi diciamo conclamati, dei rischi più frequenti? Allora sicuramente il rischio più importante è legato alla terapia post-operatoria che è fondamentale perché sono le infezioni post-operatorie che hanno un'importanza molto importante nelle infezioni. Oltre questo chiaramente va studiato in toto l'occhio perché la cataratta è soltanto una parte dell'occhio, noi l'occhio dobbiamo immaginarlo come una macchinetta fotografica e la cataratta è l'obiettivo della macchina fotografica. Prima dell'intervento va studiata sempre assolutamente anche la retina che invece è il rullino della macchina fotografica, quindi se il rullino è buono l'intervento probabilmente andrà bene, se il rullino non è buono possono esserci molte complicanze per la cataratta, anche ad esempio nel caso di una maculopatia sentivo un signore prima che parlava, io sono maculopatico, devo fare la cataratta, allora in quel caso bisogna prendere un po' più di accortezza perché si è visto che in alcuni casi l'intervento di cataratta può far riattivare una maculopatia silente in quel momento, quindi va valutato molto bene il momento di recuperarla. Caso per caso? Assolutamente. La ripresa è rapida? La ripresa è rapida, sicuramente più è morbida la cataratta e più è rapida la ripresa. Mi chiedevo, tutti possono sottoporsi a questo intervento o c'è qualcuno che devi lasciar perdere? Allora più o meno tutti quanti, oramai operiamo pazienti di 90 anni senza nessun problema, chiaramente faremo fare delle analisi preoperatorie e poi sarà lì l'anestesista a darci l'ok, però dal momento in cui oramai l'anestesia è topica non servono grandi richieste per riuscire a farla. Prima di farvi domande diciamo a entrambi più specifiche, tailor made, proprio tagliate su misura, vorrei chiedere a entrambi, è importante quando ci prendiamo cura degli occhi pensare costantemente all'idratazione? Parto da lei professore e vengo alla nostra stessa. È fondamentale perché non dimentichiamo che noi nasciamo col 60-65% di acqua, il sangue ha il 55% di plasma, l'acqua è necessaria al nostro organismo, nell'occhio ci sono le lacrime, le lacrime sono anche liquide e perché hanno il sodio, hanno anche altre sostanze, allora dobbiamo sempre guardare alla idratazione e per quelli che hanno i capelli bianchi come noi è importante prendere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, per voi giovani anche due litri, questo è il minimo considerando anche che noi beviamo il latte, beviamo il caffè e il passato di verdura piuttosto che una bevanda qualunque. Io stavo pensando Stefania anche ai succhi perché leggevo nei materiali preparati nella nostra redazione che la signora Rosa ha detto che la sua dottoressa le ha consigliato nel post-operatorio succo di mirtillo. E su quello sono d'accordo, se parliamo di succhi in generale con la quantità di zuccheri che ci possiamo trovare non mi piace tanto, ma il mirtillo sì, perché può aiutare tantissimo la nostra microcircolazione e quindi va benissimo, un po' di succo di mirtillo anche diluito con l'acqua. No, io prendo l'estratto. L'estratto, ancora meglio. Non il succo. Non il succo, comunque ci sono altri. Nell'estratto c'è la glucocinina che è molto importante, è un componente bioattivo e che dà la possibilità al microcircolo di scambiare meglio il potassio col sodio, quindi di drenare e drenando avere una maggiore fluidità del liquido in generale. Quindi segnale verde al mirtillo. Mirtillo, verdissimo, verdissimo. Ma gli impacchi. Gli impacchi, sì. Servono a rendere meno stanchi e affaticati i nostri occhi? Sì, certo. Già se pensiamo alla classica camomilla, che noi la consideriamo per andare a dormire, ma in realtà la camomilla non è che lavori poi così tanto sul nostro sistema nervoso. Sfatata la camomilla, anzi. Però è un antinfiammatorio potentissimo e quindi abbiamo gli occhi affaticati, abbiamo gli occhi stanchi, magari un po' arrossati. Allora sì, possiamo fare un'infusione di due o tre minuti di un cucchiaino di camomilla e poi con delle garze sterili, mi raccomando, non garzette magari trovate così all'ultimo momento, ma con delle garze sterili, le applichiamo sui nostri occhi anche solo dieci minuti. Ma veramente abbiamo grande beneficio. Effetti positivi. Tra poco ti chiedo dei semi di lino, perché qui c'è tanto da scoprire, però approfitto della presenza del dottore, del dottore Ricci, per chiarire un punto. Quando abbiamo gli occhi stanchi e affaticati, rossi, tendiamo tutti quanti un po' ad abusare dei colliri. Allora, ci dice una parola sul collirio? Fa bene? Fa male? Come lo dobbiamo usare? Quanto dobbiamo stare attenti? Allora, diciamo, i colliri sono tantissimi. Dipende da quale collirio. Se parliamo di una lacrima artificiale, va benissimo abusare. E questo, diciamo, ci riporta l'idratazione ottimale? Assolutamente. E questo risolve buona parte dei problemi. Questo è positivo, diciamo, lo possiamo usare. Perché molto spesso l'occhio rosso è semplicemente legato a una stanchezza visiva che può essere per il video terminalista il troppo tempo che sta al computer. Quando uno sta al computer tende ad ammiccare meno gli occhi. Ammiccando di meno, la lacrima evapora. E la lacrima artificiale, oltre che dare un sollievo momentaneo, mettendo una goccina, tende a riequilibrare il tipo di lacrima. Però tutti sappiamo che non risolve il problema degli occhi rossi. E allora lì arriva l'abuso dei colliri di altro tipo. Ci spieghi un po'? Allora, in quel caso, nel senso, il collirio con il cortisone, l'antibiotico, vanno utilizzati soltanto dopo una visita medica. Perché chiaramente abusarne vuol dire ridurre la sensibilità quando veramente ne serve. Perché se io utilizzo molto spesso un tipo di collirio con antibiotico e cortisone, quando poi avrò una congiuntivite o un motivo per cui dovrò ammetterla veramente, ho fatto delle resistenze. Non farà effetto. Assolutamente sì. A tavola. A tavola. Che mangiamo per farlo meglio? Colori, colori, colori. Quindi in questa fase, ad esempio, noi abbiamo delle verdure verdi molto intense che noi non consideriamo come beta caroteni perché abbiamo in testa il colore giallo della carota, che va benissimo, come la zucca. Però in questa fase la verdura più intensa è il verde intenso, gli spinaci, il carciofo, sono i broccoli, i cavolfiori, che oltretutto contengono molto indoli e sulfoni, che non sono dei preventivi dei tumori, ma danno sempre a quel microcircolo che è legato all'occhio una capacità di essere molto fluido e nel contempo di avere la giusta fluttuazione. Perché se noi ci mettiamo questi prodotti assieme a dei cereali e in special modo ai legumi, i legumi del periodo attuale sono soprattutto i ceci, le lenticchie ed anche i fagioli, non troviamo sicuramente le fave in questo periodo, andiamo sempre nella stagionalizzazione. Però ricordiamoci sempre che questo da solo non basta, dobbiamo dare anche gli omega 3, il pesce azzurro, che questa fase, e non è il periodo questo è molto del pesce azzurro, però utilizziamo sempre quei pesci del Mediterraneo che avendo gli omega 3 danno la capacità di sviluppare gli agenti anti-infiammatori e disinfiammando noi fluidifichiamo. Ottimo, le sardine vanno bene. Bene, molto bene. Desideravo farla. Poi veniamo ai Semidilino, ma dobbiamo dire qualcosa di importante di servizio al nostro pubblico. Eh sì, perché può capitare ai noi che anche fare una visita di controllo agli occhi oppure comprare un paio di occhiali diventa difficile da un punto di vista economico. Allora, ci colleghiamo con Milano, perché lì pazientemente ci sta ascoltando Silvia Tavazzi dell'Università Milano Bicocca, professore associato di Fisica Sperimentale. Ben arrivata. Buongiorno a tutti. Professoressa, che cos'è Uni for Your Eyes? Che cos'è? Allora, Uni for Your Eyes è un progetto promosso dal distretto Bicocca, fa parte l'Università degli Studi di Milano Bicocca di questo distretto, e lo scopo di questo progetto è effettuare delle visite, delle analisi visive a delle persone che non se lo possono permettere, fornire l'occhiale, se questo può essere utile per migliorare il visus e quindi dare un occhiale della correzione del potere adatto, ma anche effettuare altre tipologie di analisi che poi noi mettiamo a disposizione di un nostro partner all'interno di questo distretto, che è il medico oculista dell'ospedale Niguarda Cagranda, qui vicino a noi, per verificare se dietro a un visus non ottimale c'è una qualche patologia. Allora, chi effettua queste visite? Sono delle persone laureate in ottica optometria, perché qui a Milano Bicocca da circa 20 anni c'è questo corso di laurea, abbiamo laureato 500 persone, quindi loro effettuano l'analisi visiva, quella classica di base, poi anche utilizzano questa strumentazione come strumenti per vedere il fondo dell'occhio, lampade a fessura per acquisire immagini, fotografie, insomma, della parte anteriore, che poi, ripeto, mettiamo a disposizione dei medici dell'ospedale Niguarda. Quindi strumenti molto sofisticati, ma io vorrei chiederle, professoressa, intanto di descriverci un po' la zona che abbraccia questo progetto, che, come diceva Massimiliano, è una zona dove si vivono difficoltà, per capire il perché, perché avete deciso di metterlo in piedi? È un progetto molto bello, inclusivo. Allora, il distretto Bicocca raggruppa vari partner, tra cui l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'ospedale Niguarda, il Municipio 9 e altri due comuni limitrofi, qui della zona nord di Milano, e altri partner ancora. In questo progetto, in particolare, abbiamo coinvolto anche aziende che ci forniscono le lenti, le montature. Abbiamo poi persone di una scuola, di un istituto professionale, che montano, sagomano le lenti e le montano, a disposizione di queste persone, che ci vengono mandate da il Municipio 9, che organizza l'agenda. Il Municipio 9 fa riferimento ai canali istituzionali, tradizionali, per reperire queste persone in difficoltà economiche. Grazie davvero. Un applauso a questo progetto bellissimo, Uniform Your Eyes, che è un progetto, ci piace dirlo, come siamo noi, replicabile in tutta Italia. Grazie, professore Satavazzi. Allora, qualche altro consiglio, Stefania. Allora, sì, un'altra pianta da non dimenticare, se pensiamo ai nostri occhi, è sicuramente l'eofrasia, utilizzata tanto anche nella tradizione popolare. E la possiamo utilizzare, come dicevamo prima, con degli impacchi, oppure anche in tintura madre, vale a dire in gocce, ma a quel punto ne basteranno veramente tre o quattro gocce, sempre da diluire con un po' d'acqua e metteremo le nostre garze. Quindi anche lì per arrossamenti è incredibile. E tu prima accennavi ai semi di lino. Ascoltate bene. Perché i semi di lino ci possono aiutare, se abbiamo ad esempio un orzagliolo magari preso all'inizio, perché la natura appunto ci aiuta, però dobbiamo un po' anche lì essere previdenti. Quindi un orzagliolo preso all'inizio, noi facciamo un impacco di semi di lino, quindi faremo una decozione, così i semi riusciranno a tirar fuori la mucillagine. Diventa una specie di gel. Esattamente. un'acqua tipo gel, quindi una decozione di dieci minuti, un'infusione, la lasceremo lì in infusione per altri dieci o quindici minuti e con le nostre garze l'applicheremo, però tiepido, ovviamente non bollente, ma neanche freddo. E questo ci aiuta? Sì, fatto un paio di volte al giorno, per due o tre giorni, ci aiuta. Speriamo di essere stati utili oggi, Gabriella. Speriamo, abbiamo anche noi imparato diverse cose. Siamo stati utili, sì. Come no? Rosa, da oggi Rosa dà tante cose, anche sull'opacizzazione del cristallino. Non lo dico più. Grazie, grazie. Grazie, grazie che siete stati con noi. L'opacizzazione del cristallino. Le mando un bacio. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti. 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 E noi torniamo puntuali domani alle 15.20. Vi aspettiamo domani. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, con piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.